Salve e bentornati a questa nuova puntata di Roma Talk vado ad una breve bio della mia ospite nata e cresciuta a Roma ha frequentato il liceo classico Vivona di Roma dove ha iniziato le sue battaglie politiche e sociali laureata alla sapienza in lettere classiche con indirizzo archeologico e poi diventata insegnante di latino dal maggio 2006 al 2008 è stata presidente del municipio Roma dodicesimo municipio oggi è nominato il nono nel 2007 ha partecipato alla fondazione del partito democratico diventando membro dell'assemblea nazionale è stata assessore allo sport turismo ai giovani della provincia di Roma con la giunta di Nicola Zingaretti fino al 31 dicembre 2012 quando chiaramente Zingaretti si dimette il 7 aprile 2013 è stata unica donna del PD a partecipare alle primarie al sindaco di Roma confrontandosi con Paolo Gentiloni, Ignazio Marino e Davide Sassoli primarie che poi vinse Marino e poi vinse anche le elezioni diventando sindaco di Roma ad ottobre 2013 in occasione del congresso romano del PD è stata eletta segretario del circolo PD euro con oltre il 70 per cento dei voti nel dicembre 2013 del 2013 è stata capolista alle primarie aperte del PD nel collegio di Roma Sud Euroostia e nel 2017 è stata riconfermata nell'assemblea nazionale del partito alle elezioni del 2018 viene eletta la camera dei deputati nel collegio uninominale di Roma Ardiatina sto parlando sto parlando di Patrizia Prestipino che ringrazio di essere qui con me a Roma Talk ciao Patrizia ciao a voi ho fatto tutte queste cose non me lo ricordavo hai visto sono andato velocissimo eh sono andato velocissimo una sintesi una biosintesi perfetta eh sì insomma allora io vado subito con dei numeri eh abbiamo detto puntata no speriamo che sia femmina citando un celebre film di Mario Monicelli e il gap il gap di genere nella politica italiana secondo un rapporto agi open police l'Italia è tredicesima in Europa per percentuale di donne ministro in media in media dal 1976 le donne ministro in Italia sono state il 10 per cento e solo con il governo Renzi si è ottenuto una piena parità al 50 per cento al momento abbiamo una sola donna leader di partito Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e non abbiamo mai avuto chiaramente una donna primo ministro né tantomeno presidente della Repubblica ma qui insomma ci fanno compagnia a tanti altri stati europei e la prima donna ministro l'abbiamo avuta solo nel 76 con Tina Anselmi al di Castero del Lavoro altro elemento che ti do e poi ti lascio la parola le donne in Italia sono il 50 per cento della popolazione circa ma occupano solo un terzo delle cariche politiche nazionali e meno di un quinto di quelle locali questo è il quadro del nostro paese una tua battuta su questi numeri impietosi beh abbattuta chiaramente una battuta fatta di amarezza però è anche vero che piano piano il percorso culturale si sta in vertendo insomma non parlo solo delle ultime vicende che comunque riguardano stanno nel recinto del Partito Democratico però per esempio questo è un Parlamento quello eletto nel 2018 dove la presenza delle donne è molto forte c'è stato un balzo in avanti pazzesco rispetto al passato e soprattutto anche si è abbassata l'età non sia delle donne che degli uomini del 50 per cento di ministri donna l'hai detto te nei governi precedenti c'è stata la polemica adesso insomma sul governo Draghi sulla presenza delle donne per quanto riguarda il Partito Democratico ma abbiamo visto com'è finita adesso un'esplosione di entusiasmo e anche di tante occasioni nei confronti di tante donne capaci di esperienza competenti che sono nel Partito Democratico secondo me che possono dare tanto però siccome poi il mondo non gira solo intorno al Partito Democratico mi accorgo che in tanti altri partiti per esempio penso a Forza Italia e lo dico con anche con una certa amarezza penso alla Meloni che è segretaria unica donna di un partito è un po' paradossale sta roba qui è l'unica leader la destra la sinistra aperta le battaglie sui diritti aperta la parità di genere poi è ipso facto delle donne non le ha mai messe in posizioni come dire ti sei spiegata perché ti spieghi perché hai una tua spiegazione una tua idea su questa su questo elemento no che nella sinistra le donne perché poi sai c'è un tema no che secondo me il nostro paese sconta proprio una tara il rapporto tra le donne e il potere cioè il fatto che si vedano le donne nelle figure no di assistenza di cura di cura no la donna che cura la famiglia che invece si ha difficoltà a vedere la donna e il rapporto della donna con il potere e io dico che le donne hanno lo stesso diritto degli uomini ad avere ambizione di potere perché poi col potere no che si fa la politica e ti sei data una spiegazione su questa su questa tara ma io credo che derivi proprio dal ruolo della donna cioè la donna è per sua natura accudente no cioè non lo so se per sua natura si può dire che per natura accudente anche per ruolo sociale ma lo ha anche di carattere è madre è madre quindi non può non essere accudente perché è chiaro che io non ho figli ma la donna che diventa madre immediatamente si trasforma no è il come dire quello che succede anche all'orsa che diventa madre piuttosto che alla tigre cioè perde tutto il resto e pensa solo si 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 concentra sui figli almeno è così nella maggior parte dei casi poi è chiaro che la donna oggi si è voluta e forse dovremmo lavorare su questa rappresentazione no magari sì ma non deve rinunciare no per esempio non ho avuto figli per tanti motivi legati anche a miei problemi personali ma il non è che la donna madre poi debba per forza rinunciare essere ministro piuttosto che sindaco piuttosto che manager quindi è chiaro che devono essere date alle donne come dire delle opportunità per poter riuscire a svolgere benissimo entrambi i ruoli perché è chiaro che guardate la carfagna diventata ma di mesi fa ed oggi fa il ministro ma e la carfagna stessa e la carfagna stessa scontano il suo passato da subret no anche questa roba qui no questa roba qui per cui una donna no viene etichettata no e se può essere etichettata rispetto a una figura di starletta di è meglio e se la porta a vita sta roba e invece no ma pensate che fatica che ha dovuto fare la carfagna per tra virgolette riabilitare questa sua immagine del passato io sono amica di mara la trovo una donna bravissima straordinaria di grandissima capacità però è come se lei dovesse ancora dimostrare di non essere quella del passato e non ne ha bisogno perché la sua professionalità la sua esperienza la sua competenza parlano da sole non ha bisogno di anche perché sono passati vent'anni sono passati vent'anni ma sai google piuttosto che internet ti ricordano anche cose meno piacevole secondo me poi c'è poco da vergognarsi però è così prima hai parlato importante quello che sei oggi certo hai parlato del partito democratico qui ti faccio vedere no un articolo della stampa ma poi insomma simona malpezzi eletta capogruppo pd al senato a palazzo madama segue i lavori insomma c'è stata una 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 un un tema no nel pd che è partito dal governo draghi no poche nessuna ministra donna da parte del centro sinistra letta nuovo segretario ha detto vabbè però almeno a questo punto cambiamo i capigruppo al senato e alla camera al senato malpezzi alla camera ancora si sta discutendo si fanno i nomi serracchiani madia e secondo te è sufficiente questa cosa o può essere un inizio può essere cioè proprio di come dire iniziare ad avere una sensibilità verso questo problema perché è un problema cioè le donne ci devono essere nei posti di potere ma allora è inutile che vi ripeta i passaggi anche dolorosi che sono si sono succeduti in questi in questi giorni no dall'arrivo di letta in poi che ha mostrato da subito un piglio decisionista e ha deciso di andare avanti per la sua strada in maniera molto sicura molto netta e ora voglio dire le azioni politiche si giudicano dai risultati fondamentalmente così da sempre e un risultato letta l'ho ottenuto presto e subito cioè quello di una successione tra donne e uomini in posti cosiddetti apicali ma sapete qual è il secondo me il punto politico hai parlato di simona io simona per me è una sorella siamo amiche da tantissimi anni ma io ho detto subito quando ho capito che si chiedeva un cambio della guardia a marcucci io ho capito che lì sarebbe andata simona marpezzi ma perché l'ho capito non perché sia amica di simona perché ho fatto un ragionamento politico ho pensato marcucci comunque è rappresentante di un'area inutile che è un'area che se mi lasci dire Enrico io smetterei di chiamare ex renziana perché io sono democratica perché come ricordi bene dieci anni fa io ho subito personalmente nella mia vita due scissioni una quando se ne andò il mio mentore che era francesco rutelli andò nell'api e io rimasi sola nel partito democratico finché incontrai Renzi e sono stata lealmente con Renzi poi Renzi è andato via e io sono rimasta nel PD quindi come me tutti quegli altri però vedi tu devi tu hai se tu senti sempre la necessità di raccontare no il passaggio in realtà nel PD tanti sono stati renziani diciamocelo non è che non è che voglio dire Renzi Renzi diventato segretario perché c'è stato un fenomeno paranormale no e invece tu devi sempre stare lì a spiegare che io guarda spiego per un semplice motivo perché hai ragione sembra quasi un giustificazionismo ma in realtà i giornali soprattutto i giornali sono stati così sgradevoli no nelle letite io capisco che le gli epiteti fanno più effetto le metafore che non chiamare le cose col proprio nome però continuare a parlare di un qualcosa che non esiste più no quindi qualcosa che era ante non veramente sgradevole perché siamo tutti e quando ricoletta la prima assemblea di gruppo ha detto qui non sono venuto per fare vendette qui non siamo ex nessuno di niente siete democratici in quanto state nel PD e io lì mi sono rassicurata adesso perché è uscito il discorso no però guarda che un elemento interessante questo partita sai perché te l'ho detto perché l'impressione che io ho è che si tendano a dire a tu sei stata un'ex renziana un'ex bersaniana un ex soprattutto quando si tratta di rappresentanti politiche donne e quindi questa roba qua di dire tu sei stata un'ex renziana no perché io raramente lo sento dire a modi come dire accusa rispetto a dei politici uomini mi sbaglio è una mia impressione errada anche degli uomini anche sono io che sbaglio però gliela fanno scontare di meno mi sembra che la facciano scontare di meno ci fanno scontare altre cose e qua mi inserisci mi inserisci la domanda che volevo farti quali sono secondo te gli stereotipi che una donna che fa politica deve subire e quali sono appunto questi stereotipi che vanno cambiati tu che hai fatto la gavetta sei partita dal municipio dalla provincia ecco quali sono dei comitati di quartiere esattamente ho fondato un comitato di quartiere quali sono quali sono state quali sono tuttora gli stereotipi che una donna che fa politica deve affrontare ma guarda intanto esistono cioè noi donne abbiamo caratteri diversi storie diverse giustamente perché non è che siamo tutte uguali no se non è che siamo delle soldatine che siamo la e rispondiamo alle stesse ai stessi parametri alle stesse esigenze anche la nostra vita personale se sei sposata non sei sposata sei figli sei tutto rende una persona quello che è no però ecco l'aspetto fisico sicuramente conta per assurdo se hai un aspetto fisico gradevole sei più soggetta come dire a male lingue a critiche a quals'altro se non ce l'hai gradevole pensate a quello che è successo a rosi no se sei dovuta subire le battute idiote di berlusconi no sei più bella che brava che intelligente quindi in realtà che deve fare una donna per farsi stimare non deve essere né troppo bella né troppo brutta primo punto poi se è troppo intelligente e furba fa paura perché troppo intelligente furba se è meno intelligente meno furba allora la puoi manovrare meglio allora lì ne fai una come dire un utilizzo a tuo piacere se è autonoma fa paura perché autonoma beh io penso che noi dobbiamo essere rispettate per quello che e lasciami dire da docente perché per me la professione principale è quella ho dimenticato sei insegnante di latino l'ho dimenticato nella bio è di greco è di greco me lo sono segnato l'ho dimenticato no vabbè ma lei in qualche maniera l'hai detto insegnavo scuola lettere quindi ma ti dicevo la per me il merito è fondamentale cioè come si fa a non partire dal merito oggi perché tu puoi usare tanti parametri no puoi dire che quella persona ti serve perché è del sud piuttosto che del nord perché fa l'operaio piuttosto che l'insegnante perché fa cioè la puoi utilizzare come ti pare però il merito è un criterio oggettivo cioè il merito è una cosa che gli altri giudicano immediatamente e puoi pure arrivarci nel tempo perché non tutti nasciamo imparati cioè non è che io quando ho fatto il consigliere municipale non ho iniziato a studiare ma secondo te ma secondo te una donna che si appresta a fare politica trova più difficoltà più difficoltà rispetto perché poi sai tendenzialmente si pensa alla politica come a un mondo di uomini proprio perché è caratterizzato dal potere beh certo che trova difficoltà poi sai se capiti con un leader intelligente una squadra che sta all'apice intelligente che capisce che è importante valorizzare il merito perché io poi non mi scandalizzo guardate io ormai sono abbastanza navigata nella politica ho visto di tutto ho diviso anche tanti tanti schiaffi in faccia mi sono sono caduta mi sono rialzata pensavano tutti che fossi scomparsa io ho fatto l'insegnante mi alzavo la mattina alle sette andavo a scuola a Pomezia insegnavo è stata una fase bellissima della mia vita quindi capisco letta quando dice che l'insegnamento ti rigenera perché io mi sono tra quei ragazzi di 15 16 a 7 anni e quando sono stata letta hanno pianto hanno pianto con me ci siamo abbracciati perché non sapevano se piangere di gioia per me o di dispiacere perché li lasciassi ecco quella è una roba che a me ha dato un'energia pazzesca ero stanchissimo ho continuato a fare politica la sera senza mai mancare un giorno a scuola andavo a scuola anche con la febbre però poi mi hanno dato questo collegio Renzi mi ha detto mi dispiace non c'è posto nel listino ti becchi l'uninominale e corri nonostante i stessi sette punti sotto e io mi sono presa l'uninominale ho corso la mia maniera anche a Roma a Roma un collegio a Roma Roma a sud Roma sud Roma sud ZTL Roma sud no no è bene no a Roma a sud fuori dalla zona ZTL parliamo dire che sono fortunata è perché io ho corso metà del buona parte del mio municipio era scusami del mio collegio del municipio dico sono stata presidente la gente se ne è ricordata e come e quindi questo mi ha aiutata però questa dimostrazione che se metti una persona riconoscibile sui territori riconosciuta magari ha lasciato anche qualche ma qui mi stai mi stai mi stai proprio invitando a parlare di Roma e io vedi perché guarda oggi quando ho annunciato la puntata ho avuto due reazioni le reazioni da parte del del pubblico femminile anche maschile interessato all'argomento del gap di genere nella politica e le reazioni da parte invece degli addetti ai lavori no che fanno politica perché poi un momento molto particolare a Roma si sta discutendo si sta riflettendo nel centro sinistra soprattutto chi candidare sindaco e io devo dire mi meraviglio mi sono meravigliato quando ho sentito ci vuole un big quando si è detto ci vuole un big si sono fatti solo nomi di uomini sappiamo che c'è sabrina alfonsi presidente del primo municipio che ha detto io sono disponibile a fare le primarie poi ho e ho avuto qui a Roma Torco ho avuto qui a Roma Torco fuori dal centro sinistra Monica Lozzi che credo si presenterà con una sua lista civica e a parte questi due queste due donne politiche il nulla il centro sinistra quindi quando parla di big non fa un nome che sia uno di donna questo evidentemente però è esemplificativo di una realtà poi uno può decidere se è negativa o positiva secondo me è negativo che almeno non si faccia un potenziale nome tra i big tu che ne pensi no allora guarda distinguiamo perché il concetto di big perché si può essere big esternamente come come fa ma può essere molto piccini dentro e quindi cerchiamo di dicevo per me big vuol dire autorevole sia come storia come competenze allora persone autorevole del PD non è che ci abbiamo moltissime autorevolissime che se togli Mattarella togli Gentiloni che è andato lì togli Sassoli che ho sperato fino all'ultimo che tornasse a salvare Roma io mi ricordo ho fatto le primarie insieme a Davide mi ricordo quanto era il suo sogno diventare sindaco di Roma come anche di Paolo Gentiloni eravamo tutti lì a correre diversi io ero una semplice insegnante loro erano già dei big e però era la loro la loro passione poi chiaramente sono come dire volati verso altri libri eccetera però per esempio se mi dice autorevole per me autorevole è Nicola Zingaretti se mi dice autorevole autorevole è Sassoli quindi eh ma come dire io guarda io non voglio entrare nel merito è che se è meglio un candidato o un altro ma il fatto che quando si parla di personaggio autorevole nel centro-sinistra ad esempio per Roma non ci sia un nome di una donna quindi eh però tiriamolo fuori insieme Enrico cioè non è allora trovare qualcuno che abbia eh no ma ha avuto la stessa esperienza amministrativa di Sassoli piuttosto che di eh Zingaretti no anche qualcieri però qualcieri che dall'Europa poi ha avuto questa parentesi eh da ministro eccetera quindi diciamo che è un po' meno radicato a Roma di quanto lo sia stato ovviamente Zingaretti ehm quindi io sono molto pragmatica è chiaro che se c'è uno che sulla carta proprio perché ha fatto fa da 15 anni l'amministratore può vincere a Roma e Zingaretti no poi Sassoli gioca anche sull'aura del suo governo se tu vai a vedere le donne da chi vai cioè obiettivamente è certo che è un gap è certo che è no quello era il senso è la mia domanda eh lo so ma obiettivo cioè dobbiamo essere pragmatiche allora qual è la mia eh anche proposta ti dico perché ne sto discutendo in questi momenti anche sulla scia di quello che ha detto Letta a trovare candidature femminili in tutti i comuni più importanti inclusiva al voto opportunità da donne e lì tu puoi andare sulla spinta del rinnovamento generazionale ma anche del rinnovamento di genere allora laddove non hai l'autorevolezza di Zingaretti piuttosto che di Sassoli hai la novità però la donna eh vedi tu sprint smart laddove non c'è magari l'autorevolezza o il curriculum di questi nomi di di uomini tu puoi andare sullo slancio del del rinnovamento di genere generazionale magari cerchi la donna che abbia non so sia specializzata in un argomento che sia il game scusami ad esempio ad esempio Patrizia con tutto che i 5 stelle quando ha vinto raggi erano sulla cresta dell'onda come sondaggi va bene la novità politica la rottura quello che ti pare ma i 5 stelle avevano tirato fuori una una politica una donna politica che aveva fatto un mandato da consigliera credo sì che fosse il primo sì uno e che era sconosciuta e più poi lascia stare che magari con grillo hanno fatto tutta la narrazione no di rottura quello che è però per esempio in quel caso il centrosinistra poteva rispondere con una ulteriore novità e vabbè poi ci fu la candidatura di eh Giacchetti no ok sembra che sembra che non ci sia mai l'occasione no per centrosinistra romano di rompere un po' quella narrazione che io definirei no al maschile come dire il potere si identifica con l'uomo e quindi l'autorevolezza quello che è va bene sbaglio quello perché la storia è quella cioè io dico sempre noi donne dobbiamo fare la fatica di risalire i piani della storia e non è facile abbiamo una montagna abbiamo avuto una montagna da scalare questa montagna diciamo che a metà è quasi scalata ma arrivare in vetta secondo me ce ne vuole ancora senti faccio conto è anche il giochino delle maschere che ho fatto nella scorsa puntata con roberto morassut vedi chi è questo beppe grillo no non lo riconosco beppe grillo certo che lo vedo beppe grillo o perché è fattibile questa coalizione a roma pd movimento 5 stelle se è fattibile sì perché se non è fattibile no è che come si fa con virgine raggi perché insomma poi quella roba lì che blocca evidentemente questa addirittura oggi leggevo che conte ai suoi dubbi a mettersi a capo del del movimento 5 stelle se a roma non si trova la quadra di questa coalizione pd 5 stelle tu che ne pensi penso che sarà ipocrita se cominciassi a parlarne male della coalizione perché l'abbiamo già fatto al governo in due anni siamo stati insieme quindi direi una sciocchezza il problema di roma è virginia raggi l'hai detto benissimo te la sindaca è stata pure donna è stata anche scelta dal popolo devo dire anche a furor di popolo perché ricordiamoci che è stata eletta quasi il 70 per cento al ballottaggio però ha dimostrato un'incapacità proprio suo oggettivo a governarla questa città che per carità poi ci sono stare tante giustificazioni ma sai quando tu fai solo il consigliere comunale tra l'altro per poco tempo no perché è stata il tempo di dell'amministrazione marino che poi è caduta in anticipo tra l'altro senza grandi come dire progetti grandi presenze in aula eccetera voglio dire non è semplice no quindi lei ha fatto qualcosa più grande di lei che devo dire lo riconosco le riconosco una capacità di incassare straordinaria sì è vero è vero con la sua storia con la sua fragile struttura politica amministrativa devo dire avrei io sarei caduta al primo round lei invece nonostante non lo so patrizia tu tu sei torta attento io ho detto no io ho detto con la sua esperienza la sua scarsa esperienza la sua fragilità no no io ho passato cose che voi umani quando amministrato lasciamo stare sono figata pure sotto scorta quindi ma perché mi mettevo nei guai da sola perché mi mettevo contro la malavita le associazioni quindi lasciamo stare però io non ce l'avrei fatta con quel tipo di di passato alle spalle quindi a lei va riconosciuto questo detto questo ragazzi è stata abile perché si è ricandidata ad agosto e voi sapete che i vuoti i vuoti in politica si occupano lei lo occupa ancora e siccome a destra a sinistra non ci sono ancora candidati lei ogni giorno rosicchia un po di consenso a me pare impossibile ma questa sta intorno al 18 al 21 cento che sembra pazzesco però ancora la gente ci crede allora siccome è un problema serio perché in politica contano i numeri se noi mandiamo un candidato nostro che si chiami Gualtieri piuttosto che che ne so fate voi Caudo piuttosto che l'Alfonsi li mandiamo lì con questa situazione li mandiamo al massacro e quindi tu dici da una parte e quindi va rimossa la raggi e quindi deve fare conto è questo grande sforzo politico non so in che maniera un problema loro non nostro o almeno non nostro direttamente lo è di riflesso oppure va convinto Calenda a ritirarsi ma Calenda detto già che si ritira solo nel caso scendesse in campo Zingaretti quindi siamo messi ecco perché il centro sinistra dovrà passare per le primarie secondo te per scegliere il candidato a sindaco anche laddove si dovesse presentare si dovesse rendere disponibile un Gualtieri uno Zingaretti o insomma un big o come viene detto beh oddio Zingaretti magari non lo so non credo però io penso che ecco e lì arrivo al punto mi sono distratta che laddove si va sulla scia di quello che ha detto il segretario noi siamo pronti a presentare un documento da portare in direzione in cui chiediamo che ci sia parità di opportunità anche per le candidature al comune di Roma in Campidoglio ma poi vedremo con quali quote nelle giunte con quali quote nei consigli di presidenze di commissione e soprattutto che ci sia nella gestione del partito perché Enrico vogliamo dirlo che non c'è stata mai una donna segretario del PD non solo nazionale ma vogliamo parlare che a Roma al PD Roma non c'è stato mai una donna non c'è stata mai una donna nel PD Lazio allora io penso che sta roba debba finire e quindi chiederemo come dirigenti del partito non solo nazionale ma anche territoriale che venga dato spazio in questa gestione complessa che ci porterà alle elezioni comunali che venga dato spazio a una gestione anche al femminile perché tanto il segretario caso è in scadenza come ben sapete scade il mandato il segretario del PD Roma e quindi chiederemo al segretario nazionale o il congresso oppure se non sarà possibile fare il congresso chiediamo una sorta di commissariamento una gestione in cui le donne ma donne voglio dire noi vogliamo no donne prese cioè donne che abbiano già dimostrato di conoscere la città di governarla in vari livelli senti ma la doppia preferenza no perché sai che appunto quando si vota alle amministrative c'è la doppia preferenza uno può votare un uomo e una donna è servita a superare questo gap sì è servita è servita perché è quello slancio del rinnovamento che ti dicevo prima cioè la candidatura femminile è molto attrattiva perché viene vista appunto come non dovrebbe essere così va beh però è di default però è così allora che magari chi ha simpatia per questa cosa non sono solo le donne credetemi le donne non sempre votano le donne non c'è questo gioco di squadra scontato però laddove si è avuto la possibilità di fare la doppia preferenza la donna ci ha guadagnato perché a volte viene votata anche più degli uomini no per esempio tu decidi di dare una sola preferenza per i tuoi problemi personali magari la dà alla donna solo piuttosto che all'uomo perché è vero si tende a dare la preferenza unica alla donna è vero e quindi stavolta sono i maschietti che iniziano a a rischiare se non sono particolarmente radicati come sono molti di loro però la donna in coppia e tu sai che tanto non stiamo a fare ipocrite si corre sempre sulla base anche di aree no quindi l'area mette l'uomo e la donna si corrono corrono insieme e abbiamo visto che in questo caso la donna ha preso anche ha capitato che abbia preso molte preferenze dell'uomo senti domanda ultima domanda ultima domanda se si fanno le primarie patrizia prestipino che fa ma noi faccio il parlamentare dicevano gli adorati latini e vediamo intanto cerchiamo di trovare spazio per delle candidature femminili questo credo che sia un obbligo morale che sia anche un venire incontro al ragionamento bello complesso articolato che ho sentito fare da ricoletta quando è venuto a parlarci al gruppo convincendoci di cambiare il capogruppo uomo ci ha detto io sono cambiato vengo da sette anni di esperienza in europa dove essere donna al potere è una cosa naturale cosa che in italia non è e soprattutto non lo è nel partito democratico va bene io ti ringrazio ti faccio un grande in bocca al lupo spero di riaverti prossimamente qui a romatolk grazie grazie a voi allora se vi siete persi questo live streaming non disperate romatolk è anche un podcast lo trovate su apple podcast spotify google spreezer deezer qualsiasi altra piattaforma voi nella lentina no nel cerca scrivete a romatolk e avete tutte le puntate compresa quest'ultima sarà anche una puntata sul mio canale youtube enrico pazzi e insomma alla prossima ciao ciao